Nell'amore tutto è possibile e nell'amore noi dobbiamo seguire Gesù, seguimi. Ogni giorno Gesù forse chiede anche a noi se siamo capaci di amarlo. Non saremo forse all'altezza dell'amore che Gesù ci chiede, ma possiamo crescere nell'amore se ci affidiamo a Lui, se ci affidiamo a quel cuore. Oggi lo veneriamo in modo particolare per il mese di giugno che stiamo vivendo, per questo primo venerdì del mese. Ecco, il cuore è come segno dell'amore. Se sappiamo guardare a quel cuore trafitto dal quale sono scaturiti sangue ed acqua, quello spirito che ridà vita e amore alla Chiesa e ad ogni persona che crede. Ecco, se sappiamo fissare lo sguardo su Gesù, sapremo anche noi imparare ad amare. E soprattutto saremo anche noi capaci di rispondere alla parola di Gesù. Seguimi.